Una cosa molto importante per la mia performance è seguire uno stile di vita adeguato e tutto nasce dal tipo di alimentazione che si segue. I miei genitori mi hanno subito fatto capire fin da bambino quanto fosse importante. Mia mamma era una bravissima cuoca e cucinava secondo la tradizione, cucinava seguendo le ricette più semplici e i prodotti più genuini. Io ho capito che tutto questo mi è servito dopo nel potermi alimentare secondo i criteri che deve avere uno sportivo. Quindi alimentazione sana, equilibrata, non bere, non fumare, sono tutte cose che sembrano ripetitive e sembrano scontate ma in realtà fanno veramente la differenza. Grazie a tutti.